Ciao amici, bentornati sul canale Giornali del Popolo Italiano. X Factor 2022, chi sono i quattro finalisti tra Linda Riberditi, i Santi Francesi, Beatrice Quinta e i Tropea? Quando finisce? Quando su TV8? Ieri, giovedì 1 dicembre 2022, è andata in onda la semifinale di X Factor, durante la quale i cinque concorrenti rimasti si sono esibiti. Quindi, scopriamo chi è stato eliminato e chi sono i quattro finalisti che si contenderanno il palco e la vittoria il prossimo giovedì. Leggi anche, X Factor 2021, quando la puntata su TV8? Orario, dove vederlo in chiaro in TV, replica X Factor 2021 semifinale replica, quando va in onda la puntata su TV8? Le puntate di X Factor andranno in onda ogni giovedì su Sky 1, ma è possibile seguire il talent anche in chiaro. L'appuntamento è ogni mercoledì su TV8, la replica semifinale, dunque, è prevista per il 7 dicembre 2022. X Factor 2022, semifinale, chi è stato eliminato? Durante la semifinale di X Factor 2022, andata in onda ieri, tutti gli artisti si sono esibiti in due manche, tra cui quella dedicata ai duetti con cinque ospiti noti, e hanno ricevuto il voto dei giudici e del pubblico. Dopo tutte le esibizioni e nonostante i complimenti accumulati di puntata in puntata, i giudici hanno deciso di eliminare la band degli Umini, guidata da Fedez. X Factor 2021, chi sono i quattro finalisti? Ecco, quindi, chi sono i quattro finalisti di X Factor 2022, Santi Francesi Linda Riverditi Beatrice Quinta Tropea X Factor 2022 finale, quando finisce? L'ultima puntata con la finale di X Factor 2021 andrà in onda giovedì 8 dicembre e sarà possibile seguirla in diretta anche su TV8. Voi cosa ne pensate dell'eliminato della semifinale di X Factor 2022 e chi avreste scelto tra quelli di ieri? Restate aggiornati con per scoprire tutte le news su X Factor 2021, quando inizia su TV8, gli eliminati, l'orario delle puntate, i concorrenti e tutte le informazioni utili per seguirlo al meglio. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.